Il nuovo Zeppelin che verrà adibito a questo servizio è infatti già in costruzione. L'aeronave, della quale vediamo lo scheletro gigantesco, è lunga 248 metri e sarà dotata di 25 cabine a due letti, di uno spazioso salone fumatori, perfino di una passeggiata coperta per sganchirsi le gambe ed ogni comodità per il viaggio che verrà effettuato in soli due giorni.